Ho fatto questa scelta proprio di non mettermi in aspettativa, ma di fare le mie lezioni di microbiologia che capitavano appunto in questo semestre, proprio con questo obiettivo, cioè di informare i miei studenti su come funziona la virologia, su come funziona l'immunologia e su quello che ovviamente altri avrebbero dovuto dire con estrema chiarezza, e cosa che invece non hanno fatto e continuano a non fare, perché continuano a mentire su tante cose. Fa i tamponi solo nei giorni in cui ha lezione. Per dare l'esempio agli studenti e metterli di fronte alla realtà dei fatti, il professor Vincenzo Cuteri, docente all'Università di Camerino, è contrario all'obbligo del Green Pass. Nei mesi scorsi ha partecipato a numerose manifestazioni di protesta contro il Lascia Passare ed è uno dei primi firmatari della petizione sottoscritta dai docenti universitari quando era stata inserita l'obbligatorietà della Carta Verde per accedere a tutte le facoltà. Rivendico senz'altro questa libertà di poter andare a lavorare senza dover sottopormi a una tassa che a quanto pare diventerà quotidiana prossimamente, quindi io credo che ci debba essere un'assoluta libertà di scelta, che vadano rispettati i principi della Costituzione, che vadano rispettate le leggi di rango superiore, come ad esempio i regolamenti europei, e che quindi si debba consentire a chiunque di poter scegliere se sottoporsi a un trattamento oppure no. Ormai è evidente, ha proseguito il professore, che ci siano dei grossi limiti alla vaccinazione e la quale sta per essere imposta in maniera indiretta a tutta la popolazione italiana. Io penso che in questa gestione insensata della pandemia che c'è stata fino ad ora, in realtà si è detto di tutto il contrario di tutto. Una sola cosa è certa, e cioè che la comunità europea, e quindi compresa anche l'Italia, ha acquistato una quantità enorme e spropositata di vaccini che oggi deve consumare. Il governo quindi starebbe cercando in tutti i modi di convincere i cittadini a fare i vaccini indipendentemente dalla loro sicurezza. Oggi sappiamo che l'efficacia è estremamente limitata. Lei pensi che il governo israeliano ha appena pubblicato un lavoro svolto in aeroporto dove accedono sia soggetti vaccinati che non vaccinati, e consideri che in Israele i non vaccinati sono anche quelli che hanno ricevuto una doppia dose, e in realtà i dati che vengono forniti sono che già al terzo mese, dalla terza dose, la protezione scende al di sotto del 60%. È evidente, aggiunta ancora, che non è una strategia che può essere portata avanti. Ad esempio in Austria è stato dichiarato che la vaccinazione dovrà essere ripetuta dopo quattro mesi, in Italia dopo cinque, probabilmente dovremo scendere a tre. Quindi sarà un continuo e inoculare vaccini, fino a quando non avremo esaurito quelli già acquistati. Non c'è una questione sanitaria e non sappiamo quanto tempo durano gli anticorpi. E ovviamente gli eventi avversi sono sempre maggiori e saranno sempre maggiori, perché è chiaro che più si procede a inoculare questo acido nucleico, più le reazioni avverse aumenteranno. E chi parla di scienza evidentemente non legge gli articoli scientifici, perché ci sono ormai centinaia e centinaia di lavori che vengono pubblicati in cui sono evidenziati una serie innumerevole di eventi avversi causati da questi vaccini. Questa caccia alle streghe dei Novavax, ha concluso Cuteri, credo che sia totalmente illogica, perché chi si sottopone al tampone ogni due giorni è continuamente controllato, a differenza dei vaccinati che comunque possono contagiarsi e contagiare. Io poi non mi ritengo assolutamente un Novavax, mi ritengo sicuramente uno contrario al Green Pass, che è una cosa ben diversa, ma dicevo accusare i Novavax di essere gli untori, di essere i diffusori, di essere coloro che non devono essere invitati a cena o durante le festività di Natale, perché rappresentano un pericolo per la popolazione intera. Io mi chiedo, ma se è vero che questo vaccino è così efficace come viene decantato, ma qual è il timore di coloro che sono vaccinati? È una cosa che non ha alcun senso, quindi andare ad accusare coloro che hanno scelto liberamente di non sottoporsi a questa vaccinazione, credo che sia una cosa effettivamente senza senso.